Siamo qui con Pietro Checucci, che ha curato il volume e le azioni locali a supporto del prolungamento della vita attiva e che coordina la partecipazione dell'ISFOL all'anno europeo per l'invecchiamento attivo. Dunque, quali sono le questioni che pone l'invecchiamento demografico a livello del mercato del lavoro oggi? L'Italia, come altri paesi avanzati dell'area Ocse, sta rapidamente invecchiando. Di conseguenza sta invecchiando la sua forza lavoro. Invecchiare significa che la percentuale di persone al di sopra dei 50 anni sul totale della forza lavoro potenziale cresce progressivamente. Questo indubbiamente crea due problematiche principali. Da una parte un problema di adeguamento del sistema a una forza lavoro che non è più quella di prima, che è mediamente più in là con gli anni e che grazie anche alle riforme pensionistiche è destinata comunque a rimanere al lavoro fino a tarda età. Dall'altro lato, dato che abbiamo un tasso di natalità ormai molto basso, probabilmente fra i più bassi del pianeta, assistiamo di fatto a un ricambio potenziale inferiore rispetto a quello del passato. Per 114-115 persone che escono dal mercato del lavoro, perché hanno raggiunto l'età per uscirvi, ne entrano solo 100. Quindi in qualche modo c'è un dislivello fra le entrate e le uscite potenziali nel mercato del lavoro. Si fa un gran parlare di invecchiamento attivo. L'Unione Europea ha dedicato l'anno europeo 2012 a questo tema. L'invecchiamento attivo può essere una risposta alle questioni che abbiamo posto finora? L'invecchiamento attivo per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è quell'insieme di possibilità che dovrebbero permettere a una persona di invecchiare senza perdere le sue capacità funzionali. Quindi in qualche modo un invecchiamento il più a lungo possibile privo di disabilità e il più a lungo possibile accompagnato dal mantenimento della funzionalità cognitiva e fisica. Questa condizione in qualche modo riceve un contributo fondamentale anche dal versante economico e lavorativo, nel senso che l'attività lavorativa favorisce certamente in prospettiva il mantenimento di un livello cognitivo buono e di un livello di autonomia fisica e funzionale adeguato più a lungo, mediamente più a lungo. L'anno europeo vuole come dire riflettere, far riflettere gli Stati membri proprio su questa tematica, diciamo ampliare il dibattito. Ma chi sono gli over 50 adesso? Si può parlare di loro come una fascia debole della società o no? Dunque, il concetto di invecchiamento è un concetto relativo. Chi veniva considerato anziano o vecchio in generale o per il mercato del lavoro un secolo fa attualmente non lo viene più considerato. Attualmente un over 50 è considerato una persona nel pieno delle sue possibilità, addirittura nel pieno sviluppo della sua carriera. Gli over 50 però attualmente potrebbero subire alcune problematiche che potrebbero spingerli fuori del mercato del lavoro. Ad esempio, se noi guardiamo le informazioni che noi raccogliamo con le nostre indagini, possiamo vedere che gli over 50 da una parte, quindi diciamo tutte le persone che sono entrate nella seconda parte della loro carriera, da una parte sono, mediamente hanno raggiunto a livelli di istruzioni elevati, posizioni più elevate, però laddove perdono il lavoro sono poco richieste sul mercato del lavoro. Hanno anche un problema di obsolescenza delle competenze. Se noi andiamo a vedere ad esempio le competenze informatiche che attualmente riguardano soprattutto il rapporto, oltre che con la macchina, il rapporto col web e le competenze linguistiche che attualmente per esempio possiamo identificare col parlare o lo scrivere in inglese, vediamo che mediamente le persone al di sopra, non solo al di sopra dei 50 anni, ma addirittura al di sopra dei 46 anni, posseggono proporzionalmente meno queste competenze rispetto alle classi di età più giovani. Questi sono tutti indicatori diciamo molto rozzi, molto di sintesi, che però ci dipingono una situazione che in prospettiva in un mercato del lavoro globalizzato e in una situazione di crisi che non sappiamo quando verrà superata potrebbero generare dei problemi. Nella vostra analisi avete monitorato le azioni programmate dalle regioni, perciò a livello locale. Quali sono le risposte della programmazione rispetto a questa fascia di età? Diciamo che l'attenzione da parte nazionale e regionale nei confronti di queste tematiche è venuta crescendo negli ultimi anni. A livello nazionale la maggior parte degli sforzi si sono indirizzati sul prolungamento della vita lavorativa e in qualche modo sul dilazionamento del momento della pensione, anche per un problema di sostenibilità complessiva finanziaria del sistema pensionistico. Sul versante regionale, dato che le regioni sono titolari delle politiche attive del lavoro, sulla base del dettato costituzionale, si è riqualificazione, formazione e riqualificazione professionali. In particolare noi abbiamo raccolto in questi anni praticamente tutte le esperienze che le regioni hanno messo in campo. In molti casi le abbiamo raccolte a un livello iniziale, a livello di bando, a livello di progettazione. Stiamo però per ritornare sul campo per verificare quanto effettivamente di questo, anche dopo l'esplodio della crisi, effettivamente è stato realizzato ed eventualmente ha funzionato rispetto agli obiettivi che ci si erano proposti. Ma quali fondi hanno soprattutto finanziato e supportato questo tipo di programmazione? Indubbiamente il Fondo Sociale Europeo ha fatto la parte del leone. Più della metà degli interventi regionali che noi avevamo censito e che si trovano nel testo che abbiamo pubblicato sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo, che del resto ha questa mission, questo obiettivo, di supportare i sistemi della formazione e del lavoro. L'obiettivo del prolungamento della vita attiva era un obiettivo dichiarato di questo sessegno di programmazione del Fondo dal 2007 al 2013 e indubbiamente le regioni hanno risposto positivamente a questo obiettivo. Dunque al di là di questo monitoraggio, quali sono le azioni che promuove ISFOL nell'ambito dell'organizzazione e della realizzazione dell'anno europeo? Noi abbiamo una veste duplice. Da un lato siamo un'agenzia di supporto al Ministero del Lavoro e quindi in particolare su questo tema forniamo al Ministero le informazioni di cui ha bisogno per elaborare i suoi interventi e le sue politiche. Dall'altro essendo un ente pubblico di ricerca siamo chiamati ad alimentare il dibattito nazionale. Quest'anno lo faremo in particolare pubblicando adesso fra poco un numero monografico dell'osservatorio ISFOL dedicato interamente all'invecchiamento attivo e realizzando un convegno nazionale nella seconda parte dell'anno che sarà dedicato proprio alle tematiche del mercato del lavoro e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e il lifelong learning in relazione appunto alle fasce di età più avanzate. Grazie.